ciao a tutti amici un video veloce in da vinci per farvi vedere una cosa che potrebbe capitare quindi come rimediarci come vedete ho un montaggio che avevo fatto dove mi trovo una fusion composition e questa fusion composition mi ritorna un media offline eppure se noi entriamo nella fusion composition troveremo regolarmente la programmazione che è semplicemente un fondo e un testo in questo caso comunque non ha importanza è tutto regolare perché non risulta collegato perché erroneamente è stata cancellata la render cache per liberare il disco e tra questi file c'era anche appunto questo che era già stato renderizzato e quindi computer in questo momento da vinci sta puntando a quel file renderizzato e non lo trova e ci avverte guarda non lo trovo come facciamo la soluzione in realtà è semplice basta andare su playback scendere sotto render cache e vediamo che sta usando user adesso facciamo no non usiamo nessuna render cache facciamo così il nostro file è ritornato attivo perché in questo momento sta ripuntando sulla programmazione vera e propria del file di fusion ecco questa è una cosa che potrebbe succedere bene io spero che questo video non vi serva mai perché altrimenti avete fatto questo errore che non bisognerebbe fare di cancellare la cache dei file renderizzati prima di aver finito il progetto io vi ringrazio ci vediamo al prossimo video ciao ciao